Dal primo novembre ricopro l'incarico di direttore di questo importantissimo e prestigioso istituto musicale. Un istituto florido che vanta più di mille iscritti, che offre alla cittadinanza non solo un'ampia offerta formativa. Negli ultimi decenni i conservatori hanno avuto la possibilità di aprirsi ai nuovi linguaggi, quindi al jazz, ma anche alla musica antica con un approccio molto attento alla filologia. Quindi Palermo rappresenta un polo di eccellenza in Sicilia, nel Meridione e direi anche in ambito nazionale. Un aspetto che mi sta particolarmente a cuore è la vicinanza nei confronti degli studenti, delle famiglie, ma anche l'internazionalizzazione. Questi sono i due poli di riferimento che orientano il mio lavoro quotidiano. E poi l'attività ordinaria. Presto avvieremo le masterclass per l'anno 2024. Inaugureremo la stagione concertistica, i primi di marzo, al Teatro Massimo, con un concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatone, una realtà importantissima formata da docenti e studenti. E in quell'occasione, proprio perché l'orientamento è quello di puntare sui giovani, si esibiranno due studenti, due eccellenze del nostro istituto. A proposito di giovani, l'amore per la musica è sempre forte nei giovani? L'amore è forte, lo vediamo perché nonostante le criticità, la denatalità, anche la crisi del settore culturale e musicale riusciamo a tenere in termini di iscrizioni. Certo, preoccupa un po' la crisi del mondo del lavoro. Ecco perché bisognerà lavorare per creare dei ponti con il mondo del lavoro. Quindi penso alle realtà lirico-sinfoniche più rappresentative, penso alla scuola. Bisognerebbe trovare delle soluzioni per supportare i nostri studenti dopo il conseguimento del titolo finale. E' lo stato economico del conservatorio? E' uno stato diciamo buono di un ente pubblico che chiaramente deve spendere quello che è in cassa. Quindi la mia idea è quella del buon padre di famiglia che deve cercare di spendere con un'culatezza guardando tutti e cercando di mantenere quell'equilibrio necessario, indispensabile per tenere i conti in ordine. Chiaramente per questi aspetti subentra il presidente, il consiglio di amministrazione, quindi il direttore non è solo.